Musica Hola ragazzi bentornati in questo nuovo video Io sono XTrader e oggi andiamo a vedere Come creare una pianta Su MC Creator Prima di partire vi informo Che è stata rilasciata la versione 1.9.1 di MC Creator Che è stato anche un grosso aggiornamento Di questo programma che porta tante novità E tante cose in più Che andrò ad analizzare in un video apposito Adesso in questo video Però le novità che porta L'aggiornamento di MC Creator Le salterò più a pari o comunque sia Le accenderò appena per comodità essenzialmente Ora senza perdere tante chiacchiere Cominciamo Perché una pianta deve andare su Add new mode element e scegliere ovviamente Plant, mettiamo il nome del nostro element Nella mod E' importante anche da dire il fatto che Noi non andiamo a creare per esempio un albero Per il momento queste cose Non si possono ancora creare Di sé per sé Tramite un singolo elemento della mod Se non vado erratto Tuttavia andiamo a creare qualcosa come Per esempio un crop O dell'erba O qualcosa di simile Se invece vogliamo creare degli alberi Lo possiamo fare tramite O le procedure Oppure creando un bioma E allora facciamo gli alberi specifici Per quel bioma Comunque Qua appena creato l'elemento Pianta Selezioniamo la texture Adesso andiamo a crearne una nuova Ok ho creato la texture L'ho salvata come blocco E adesso andiamo a Selezionarla Poi possiamo scegliere Che tipo di pianta è Se è una pianta Statica Come per esempio l'erba O i fiori O se è una pianta che cresce Come per esempio il canale da zucchero Scegliamo statica Visto che non ne scegliebbe bene Se la facciamo che cresce Dalla texture Comunque nel caso scegliamo Il fatto che cresca Possiamo poi scegliere Che tipo di pianta è Quindi deserto Pianura Piaggia Caverna Acqua Nether E via dicendo E qual è la massima crescita Della pianta Tre è Quello delle canne da zucchero Comunque noi torniamo su Una pianta statica In futuro Da qualche letto Verranno aggiunti Parametri anche per la pianta statica Adesso non ce ne sono Pagina successiva E poi Qua queste sono le opzioni Di un normalissimo blocco Di MC creator Se volete vedere in dettaglio Andate a vedere Tutto il suo MC creator Che trovate qua A destra Poi ci sono alcune cose nuove Che le ne vede appunto Nel prossimo video Su MC creator 1.9.1 Chiamala però Innanzitutto pianta E poi gli altri valori Li lascio così Perché non mi interessa Modificarli Ah Molto importante Qua Se è ripiazzabile Vuol dire L'erba Se lasciamo Se mettiamo di si Vuol dire che Come con l'erba Quando piazziamo Per esempio Un blocco Guardando l'erba Il blocco Va a sostituire l'erba Se invece Mettiamo di no Come con i fiori Il blocco Non rimpiazzerà l'erba Quando Quando Lo piazziamo Guardando il fiore E quindi andrà Di fianco In base a quale lato Stiamo guardando Pagina successiva E adesso Scegliamo Lo spawn Di questa nostra pianta Possiamo scegliere La frequenza Di spawn Nei chunk Quindi Quante piante Troveremo al massimo In un chunk Noi mettiamo Considerato Che ci sono In una superficie Piana Di un chunk 256 blocchi Mettiamo La metà Così siamo sicuri di trovarla Cioè 128 E poi possiamo scegliere Dimensioni in cui spona Quindi la superficie The lower world Il nether E land Poi Scegliamo Se questa pianta Spona solo In specifici biomi E quindi Poi possiamo andare A scegliere Quali sono Questi biomi Non mettiamo di no Qua ci sono le procedure Che spiegherò Tutto l'apposito Come già detto Perché sono una cosa complessa E facciamo Salva Elemento Della mod Adesso finito Appena finisce Di ricompilare Apro minecraft E andiamo a testarlo Eccoci qua Nel nostro solito mondo Andiamo a prendere la pianta Poi mi sono indicato Di metterla nella tab Che abbiamo creato Quindi la troveremo Qua Eccola Ovviamente poi si pensava Solamente sull'erba Ed è fatta Ha una texture AX Come vedete Non abbiamo messo Che è ripiazzabile Né che è infiammabile Andiamo a testare Esatto Non è ripiazzabile E Nemmeno infiammabile Adesso andiamo a vedere Se la troviamo in giro Per il mondo Eccola Come vedete Ce n'è tantissima Veramente tanta Perché spona al massimo Nella metà dei blocchi libri Di un chunk Bene Il video è finito qui La nostra pianta è stata creata Con successo Quindi Se avete qualche problema O qualche consiglio O richiesta Non esitate A scriverlo nei commenti E pertanto Commentate Iscrivetevi E lasciate possibilmente Un like E XTradar Burn